Presentati i risultati dell'attività dello scorso anno del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni e i programmi per il 2012. Molto attivo il Corecom nell'ambito delle conciliazioni tra utenti e compagnie telefoniche. Il servizio. Oltre 2 milioni di euro risparmiati dai cittadini piemontesi con le conciliazioni tra utenti e compagnie telefoniche nel 2011 e in prospettiva ulteriori economia. E questo in sintesi è uno degli aspetti salienti dell'attività del Corecom piemontese. Oggi vogliamo passare al secondo livello con le deleghe di secondo grado, quindi arrivare al 100% della soddisfazione. Ma soprattutto vogliamo anche potenziare il servizio non solo nell'area di Torino ma nel resto delle province piemontesi. In primo piano anche l'emittenza radio televisiva radiofonica, in particolare il Corecom sta lavorando per porre il rimedio alla difficile ricezione del segnale digitale in buona parte del Piemonte. Abbiamo fatto una mappatura del territorio e ci siamo accorti che il segnale del TGR Rai non arriva a circa 600 mila piemontesi. Inaccettabile e quindi noi adesso ci metteremo di buzzo buono perché questa è una di quelle, virgolette, emergenze democratiche a cui bisogna porre rimedio. E per quanto riguarda il rischio chiusura di alcuni emittenti locali, il Presidente Geraci ha proposto un tavolo di crisi con le istituzioni. Chiederò al Consiglio regionale e a tutte le istituzioni possibili di incentivare ancora di più la pubblicità istituzionale in modo tale che le televisioni locali possano in qualche modo sopravvivere.